buongiorno faccio un video su un film che a me è piaciuto molto devo dire sulla crisi del 2008 che è margin call se non l'avete visto vi consiglio vivamente la visione ottimo film ottima sceneggiatura attori di primo livello jeremy irons kito c'è quello che faceva house cards e altri quindi ottima ottima interpretazione è bello perché spiega un po livello economico che cosa è successo in una grande azienda in realtà la simulazione che sia la lemon brothers ma il nome dell'azienda è diverso perché per i motivi di spettacolarizzazione nel momento in cui c'è stata la appunto la crisi e come l'azienda reagisce per salvarsi salvarsi le chiappe a discapito dei suoi clienti o di altre persone che ne pagheranno le conseguenze ribadisco margin call ottimo film vi consiglio una scena per tutte che è la scena del meeting notturno in cui si deve decidere come risolvere la problematica perché è fatta molto bene a parte che si vedono di mandamiche di quasi tutti quelli che normalmente io credo dicono come salviamo l'azienda chi ce frega di quello che succederà agli altri e quindi c'è la convocazione del seo che deve decidere che quello che poi prenderà le decisioni tirando le fila di quelle che le descrizioni ma è interessante anche per vedere la dinamica di una della comunicazione in un'azienda arriva appunto il seo le due di notte perché siamo in un'emergenza e intanto stringe la mano solo una persona di tutto il board dell'azienda che probabilmente è un azionista di grosso il capo del personale della della del settore in cui si è scoperta la magagna già all'inizio dice attenzione ragazzi soprattutto c'è questo ragazzo che ha scoperto il problema che è una persona sicuramente molto intelligente che è l'analista dei rischi che appunto ha messo insieme le informazioni in merito viene da un altro mondo quindi non ha la comunicatività eccetera dell'azienda e viene messo in guardia appunto dal capo del personale mi raccomando ragazzi soprattutto tu cercate di non fare troppo gli intelligentoni lì dentro quando parlate con il capo perché è ovvio perché con il capo non bisogna mai sembrare più intelligenti di lui cosa succede il capo legge il report il capo del settore gli chiede al capo del settore ma spiegami un po' sta cosa qua com'è la situazione e lui gli dice molto deferente gli spiega se guardi la pagina tal dei tali c'è spiegato e il capo velocemente dice senti sono le due di notte io bisogno di avere una spiegazione veloce e snella di qual è la situazione e proprio si vede la decisionalità perché senza neanche aspettare la risposta dice ma guarda facciamo così fatemi parlare subito con la persona che ha messo insieme questi questi dettagli e vuole parlare con l'analista che è lì che ovviamente un po' spaventato si trova a parlare direttamente con il seo dell'azienda gli spiega la situazione in maniera molto razionale il capo il seo gliela semplifica dicendo mi sembra che quindi qui la musica si stia si è fermata lui da buon razionalista cerca di razionalizzare ma non è che proprio si è fermata la situazione è che la musica si è rallentata e se si dovesse fermare sarebbe molto peggio e il seo ovviamente coglie l'occasione anche se si vede che ha rispetto per questo ragazzo di dirgli io sai perché io sono qui vuoi sapere perché io sono qui siedo qui e poi guadagno più di voi ed è una domanda un pochettino come dire autoritaria posta in maniera autoritaria io sono qui perché il mio compito è capire in che direzione va il vento in che direzione va il mercato e il mio istinto mi dice che la musica si è fermata cioè lo rimbrotta dicendo è così e basta ok nel contempo si vede il capo del settore che lo guarda male no come dire cerca di stai attento a quello che dici e mentre si vede che il capo comunque del personale del settore in cui lavora lo sta come dire squadrando e anche sto analista guarda lui e la sua braccio destro per come dire cercare consenso cosa devo fare si vede il seo che prende in mano la situazione gli dice lei sta parlando con me adesso come dire non guardi sono io il capo devi interagire con me ok c'è la descrizione molto velocemente se dice va bene adesso abbiamo capito che la situazione è molto grave cosa possiamo fare caro Jared che è il capo del settore in cui lavora per risolvere il problema che soluzione avete per noi tata veloce ok tata e lui non risponde ma non risponde non perché non lo sa perché la soluzione l'ha già data prima nel pre meeting lo sa cosa bisogna fare ma non risponde al che il seo un po stizzito dice che cosa come come se lo dovesse riprendere noi dovesse rinsegnargli le cose cosa vi ho insegnato fin dal primo momento che siete entrati in questo ufficio per vivere in questo settore bisogna essere veloci imbrogliare oppure essere intelligenti siccome io non imbroglio le soluzioni sono le altre due al che ha questa risposta qui in capo del settore risponde vediamo tutto e ovviamente poi si andrà in questa direzione ovviamente poi ci si dirige una cosa perché non risponde subito perché deve dare l'impressione al seo che lui non ha la soluzione ed è il seo che gliela sta suggerendo in modo che il seo dice io io su quello che ha capito tutto e il mio personale si fa il suo lavoro ma ha bisogno di me non è abbastanza intelligente molto importante mai outsmart your boss dicono gli inglesi ovviamente poi cosa c'è si ci si no ovviamente ci si dirige verso un membro del mondo molto esperto molto anziano nel settore che è Sam a cui si dice benissimo si può fare questa cosa Sam è lui l'esperto è lui quello che sa se si può fare o no e ovviamente verso di lui c'è una grande rispetto perché il seo poi vorrà parlarci perché questo Sam dice si si può fare ci sono delle difficoltà ma si fa così 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 ma gli dice subito ma se noi ma chi vendiamo queste cose e se vendiamo queste cose noi ci distruggiamo sul mercato che creeremo un disastro e il seo gli dice si ho capito ma io adesso si può fare o non si può fare e questo continua a porti dei dubbi un po' quasi infantili sembra infatti in questo senso il personaggio è un po' fragile devo dire a livello psicologico nel senso che è fin troppo ovviamente è spettacolarizzato quindi deve incigantire i dubbi che sono legittimi avere ma che poi ti fai passare quando hai un'esperienza in un settore eccetera e alla fine lui continua a contestare il capo tant'è che c'è uno scontro con lui fa guarda che noi non vendremo più niente a nessuno se facciamo questo l'ho capito questo mi è chiaro ma sì ma la situazione sarà molto grave lo capisci questo e a quel punto se spazientisce anche se ha rispetto per lui gli dice io l'ho capito tu l'hai capito siamo al dunque qui si arrischiamo il fallimento che si incazza e poi gli chiede va bene come facciamo questo sem gli spiega come come agire cosa si può fare cosa si può salvare quello che è possibile salvare perché ovviamente ci saranno delle perdite dice dice va bene andremo in questa direzione e poi dopo averci tra virgolette mitigato averlo rimprontato ed è l'unico che ha il coraggio di stare in piedi con la schiena dritta di fronte al seo perché sa di valere sa di essere rispettato eccetera ma il seo stesso poi gli dice va bene adesso procediamo così sem vieni che dobbiamo parlare perché lo vuole recuperare perché gli dice tu devi stare con me in questa cosa perché lui lo stima e sa di aver bisogno di lui ora in tutta questo affaresco di cui vi manderò il link che secondo me è pregevole va analizzato e si vede veramente il grande film quando il grande film viene realizzato a livello di recitazione eccetera si vede benissimo la comunicazione all'interno di un'azienda forse l'unica cosa un po' eccessiva è questa queste eccessivi scrupoli che ha questo sem ma che appunto fanno parte della spettacolizzazione cioè uno spettacolo quindi ci deve essere una recitazione non è una realtà e basta vi invito a vederlo il film è tutto bello è tutto recitato bene devo dire senza dubbi tra qualche piccolissima sbavatura ma questa questa scena qui vale tutto quindi vi invito a vederlo e se avete delle opinioni mi aspetto dei commenti ho visto moltissimo interesse nel mondo inglese anche in quello italiano è stato seguito di meno come è normale che sia grazie per il video alla prossima la prossima recensione lo prossimo video